Carmine Verrone è morto sul colpo in seguito ad un trauma cranico cervicale e questo quanto è venuto fuori dall'autopsia eseguita stamane presso l'ospedale Luigi Curto di Polla dal medico legale Adamo Maiese. Una morte di fronte alla quale nessuno riesce a darsi pace. Il 18enne di Tegiano è deceduto lunedì pomeriggio mentre a bordo della sua Fiat Panda stava facendo rientro a casa dopo aver rasseguito le lezioni presso l'alberghiero di Sant'Arsegno dove frequentava l'ultima classe. L'utilitaria verde è andata a schiantarsi contro un'auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta un alfamito guidata da un altro giovane Elio Albanese 26enne che dal drammatico sinistro ha riportato solo lievi ferite a salvarlo l'attivazione degli airbag. L'incidente sul quale sono in corso le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Sala Consilina è avvenuto sulla statale 426 nel tratto che attraversa il comune di San Pietro Altanagro nei pressi del cimitero. La Panda che pare avesse invaso la corsia opposta al senso di marcia nella parte anteriore si è ridotta in un groviglio di lamiere e il giovane non ha trovato scampo. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverse ore prima di riuscire a liberare il corpo del 18enne ormai senza vita. A salvarsi per una casualità l'unica sorella di Carmine, Anna, proprio lei lunedì 20 maggio festeggiava il suo compleanno e doveva essere seduta in macchina al fianco del fratello. Poi all'ultimo minuto un cambio di programma e così è scampata a quella che poteva essere anche per lei una tragica fine. Lo ha scritto sul profilo Facebook ricordando il fratello. La salma di Carmine Verrone in giornata verrà restituita ai familiari per l'ultimo saluto. Grazie a tutti.